Ciao a tutti, siamo dalla parte di Colle Umberto, in zona di Vittorio Veneto, mi sto dirigendo appunto a fare la salita del San Lorenzo, una salita media, questa è la zona appunto di Vittorio Veneto, e niente, la prima faremo appunto questo tratto di salita, poi probabilmente vedrete un po' di discesa, e poi per finire vorrei farvi vedere verso Conegliano, il muro del Poggio che è uno strappo di qualche centinaio di metri molto molto impegnativo. Eccoci in prossimità della salita. Alla prossima 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 Alla prossima